Trascorrere molto tempo lontani da casa è quel genere di esperienza che ti fa apprezzare il territorio in cui vivi. Mi trovavo in Canada ed il clima ci costringeva a restare chiusi in casa. Storie su storie si susseguivano intorno ad un focolare. Ognuno raccontava le proprie esperienze vissute. Arrivò il mio turno, chiusi gli occhi e ripensai al passato. Sensazioni di gioia e spensieratezza mi invadevano mentre raccontavo la storia della mia partecipazione ad un matrimonio. Un matrimonio diverso dal solito, ambientato su un palco contornato da gente che partecipava interessata e non cessava più di ridere. Un prete ubriaco, una sposa che correva impazzita. I convitati presenti che non smettevano di sbeffeggiarsi. Non erano volti, ma maschere. Non erano abiti, ma costumi. Giochi di luci e colori facevano risplendere la piazza. Si fece sempre più vivido il ricordo dell'atmosfera quasi magica che si crea a Carnevale nella mia città. Un evento capace di richiamare migliaia di persone. Un'atmosfera calda e confortante, in grado di dare un senso di appartenenza unico. I miei coinquilini ascoltavano curiosi e divertiti, coinvolti nella gioia e la spensieratezza che gli avevo trasmesso. Sentimenti che però, guardando fuori dalla finestra, venivano oscurati da una sensazione più forte. La pelle d'oca, come la neve e il ghiaccio che mi attendevano fuori dalla porta. Era la nostalgia di quel luogo lontano, l'unico ancora in grado di farmi rivivere ricordi piacevoli di spensieratezza, insieme a quel desiderio inappagato di ritornare. Grazie a tutti.